Nome. Scotterskin. Numero vittime. 3 accertate. Modus operandi. Stupro, strangolamento, pedofilia. Scotterskin nasce il 22 dicembre 1962 in California, Stati Uniti. A 5 anni avvenne quello che, probabilmente, cambierà per sempre la psiche. Fu investito da un'auto, e passò 60 giorni di comma. Al suo risveglio, il fisico sembrava essersi ripreso alla grande, ma si lamentava spesso con la madre per i forti mal di testa, e per i frequenti blackout. All'età di 10, molestò la sua sorellina di 6 anni, costringendola a fare sesso orale con lui. Di lì a poco, iniziò ad abusare sessualmente anche dai suoi amici, minacciandoli di morte se avessero parlato con qualcuno dell'accaduto. Era solo un ragazzino, ma la sua follia aveva raggiunto livelli estremi. All'età di 15 fu rinchiuso in un carcere minorile per i continui abusi sessuali, ma riuscì ad evadere quasi subito. Senza perdere tempo, minacciò una ragazza di 13 anni con un coltello, e la costrinse ad un rapporto sessuale. La mattina dopo, inarrestabile, aggredì, con un coltello, una ragazza di 27 anni, la quale riuscì a sopravvivere. È il 1980. Erskine si stava andando a fare un colloquio di lavoro, quando vide un ragazzino di 14 anni. Come se nulla fosse, lo aggredì, picchiandolo fino a fargli perdere i sensi, mentre tentava di stuprarlo. Fu catturato, e condannato a 4 anni di carcere, nonostante le suppliche della madre per un ricovero in una struttura psichiatrica. Durante la detenzione, violentò un detenuto. Gli impulsi sessuali di Erskine erano incontrollabili, e peggioravano ogni giorno. Uscì di prigione nel 1984, ed incontrò una donna di nome Deborah. Con lei ebbe la prima relazione consenziente, e nel 1988 si sposarono. Quell'anno, diedero alla luce anche un figlio. Ovviamente il matrimonio non funzionò. La malata psiche dell'uomo, lo portò ad abusare e picchiare la moglie frequentemente. La prendeva a calci nello stomaco, anche quando era incinta. Alla nascita del bambino, la moglie lo lasciò. È il 1993. Erskine invitò una donna a casa sua, ignara di che fosse in realtà quell'uomo. La segregò in casa per sette giorni, e fu oggetto di ripetuti stupri giornalieri, di botte e percosse. Una volta liberata, la donna corse dalla polizia, raccontando dell'accaduto. Immediato fu l'arresto, e visti i precedenti, fu classificato come uno stupratore seriale, e condannato a 70 anni di carcere. La polizia, mentre Erskine era in carcere, tolse dall'archivio due casi di omicidi risolti, avvenuti in quell'anno, convinti che l'uomo potesse essere il responsabile. Le vittime erano Jonathan Sellers, di soli nove anni, e Charlie Kever, di 13 anni. I due ragazzi furono trovati vicino all'ingresso di un forte. Jonathan era appeso ad un ramo, a testa in giù. Era nudo dalla vita in giù, i polsi e le caviglie erano legate con una corda, era stato imbavagliato, ed aveva un cappio intorno al collo. I genitali presentavano segni di una feroce violenza sessuale. L'assassino, dopo averlo brutalmente stuprato, lo lasciò soffocare con la corda che gli aveva messo intorno al collo. A fianco a Jonathan, giaceva Charlie, sdraiato, denudato e sodomizzato. I genitali erano stati presi a morsi. La bocca era piena di sperma. L'assassino gli aveva eiaculato nella bocca, rimasta aperta dopo essere stato soffocato. Dopo il terribile atto, l'assassino si sedette, come se nulla fosse, e fumò due sigarette. Entrambe le vittime erano state aggredite mentre andavano in bicicletta. Le indagini, facendo un confronto del DNA di Erskine con lo sperma, e la saliva sulle sigarette, portarono ad un risultato positivo. Scott Erskine era il mostro che portò via la loro giovane vita. Nel settembre 2003, Erskine è stato processato per i due omicidi. Le foto della scena del crimine, furono mostrate durante il processo, e inorridirono tutte le persone in aula, increduli di tanta crudeltà. Rimase totalmente impassibile alle urla disperate, e ai pianti delle mamme delle due vittime. In attesa dell'inizio del suo processo, gli investigatori della Florida hanno confrontato il DNA di Erskine nel caso irrisolto di René Baker, di 26 anni, assassinata il 23 giugno 1989, dopo aver scoperto che in quel periodo, Erskine si trovava in Florida. La ragazza era stata stuprata e uccisa, spezzandole il collo. Anche in questo caso il DNA combaciava. Per l'assassino seriale si apri un ulteriore processo il 1 settembre 2004, e si concluse con la sua condanna a morte. Muore il 3 luglio 2020, a causa del covid.